Ed è una delle immagini più significative del nostro splendido paese dove è molto spesso Molto spesso Il scenario di battaglie, di incontro, ma anche di divertimento e passione come la Gymkhana Volevamo dire di conto sul nostro Facebook e non mi è piaciuto come lo dè Che ci si trova l'altro Quindi fammi mettere qua in modo che poi riprenda dove sta Sto in fare oggi Potete anche scriverci sulla nostra pagina Facebook È realmente molto immediato per contattarci in qualsiasi momento Dal vostro Giacomo c'è un band E tutto ci vediamo presto e questa è una promessa